Quando no Brasil noi diciamo faz sentido, in italiano noi vogliamo dire fa senso. Perché? Perché la parola sentido in portoghese è senso in italiano. Il verbo faz corrisponde a fa in italiano. Così noi diciamo fa senso, però è sbagliato. Perché quando io dico che una cosa fa senso, è questo che io voglio dire. Questo fa senso? Mangiare uno scarafaggio fa senso? Invece faz sentido, io devo dire ha senso.